vedete questa è la stanza del vostro youtuber cioè io preferito vediamo il letto caraibico qua dove uno può fare i sogni preferiti io lo chiamo letto basso uno dei miei viaggi e qui vediamo una super console da dj da disco qui puoi fare migliaia di canzoni io preferirei farle non da disco